Sarà eseguita domani pomeriggio presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dal medico legale Adamo Maiese l'autopsia sul corpo di Giovanni Parlati. L'esperto sub ha deceduto ieri mattina durante un'immersione nell'area marina protetta degli infreschi e della masseta. L'esame autoptico dovrà stabilire le cause che hanno portato alla prematura scomparsa del 59enne innamorato del mare del golfo di Policastro e che proprio per tale passione più di dieci anni fa aveva lasciato Napoli per trasferirsi stabilmente a San Giovanni Appiro, comune dove insieme alla moglie aveva messo in piedi una nota attività turistica. La tragedia si è consumata sotto gli occhi increduli di un amico di Parlati, compagno d'immersione. L'uomo si è accorto che il 59enne era in difficoltà e così lo ha riportato a galla e lo ha adagiato sul gommone dove si trovavano sia la consorte dello sfortunato sub sia altri amici. In attesa dei soccorsi hanno tentato di rianimarlo ma tutto è risultato vano. Dai primi accertamenti eseguiti dal medico legale Adamo Maiese sarebbe venuto fuori che il 59enne appassionato di subacquea sia stato colto da un malore, probabilmente un edema polmonare. La certezza tale ipotesi arriverà domani pomeriggio. Intanto la capitaneria di porto di Palinuro ha aperto un'indagine per fare piena luce sulla tragedia, per questo tutte le attrezzature sono state poste sotto sequestro.